c'è un problema, il terzo gruppo non sono i liberali, il terzo gruppo sono i conservatori al Parlamento europeo. E allora che cosa mi si sta dicendo? Che non si sta facendo qualcosa di democratico? Ora io penso che ci si assuma una responsabilità. Sto dicendo una cosa che è storia, non è accaduto in passato, in passato non è mai accaduta una cosa del genere, in passato al netto di quelli che poi possono essere i miei desiderati, una cosa del genere non è mai accaduta, non è mai accaduto che si partisse da quelli che dovevano essere incarichi diciamo neutrali nella loro appartenenza politica che poi certo rispondevano a un'indicazione che arrivava dai cittadini ma non erano pensati, immaginati in una logica di maggioranza e opposizione che invece venissero utilizzati come si stanno utilizzando in una logica di maggioranza e di maggioranza e opposizione.